Il ritratto di Cinciarda realizzato da Pietro Annigoni nel 1945 non è un semplice ritratto, ma rappresenta una riflessione profonda sulla condizione umana. Annigoni con il suo stile realistico e il suo interesse per le questioni sociali fotografò in quest'opera il complesso dislivello tra gli esseri umani che la società spesso costruisce e dimentica. Cinciarda, un barbone che frequentava regolarmente lo studio del pittore che aveva posato per lui diverse volte, si pone davanti allo spettatore così com'è, senza cercare considerazione. In questa rappresentazione il gesto del soggetto con il mento appoggiato sulla mano va oltre il semplice atto di posa. Esso emerge come un potente simbolo di introspezione e meditazione, forse una critica alla collettività. Nell'opera Cinciarda, un uomo che vive ai margini della società e vaga per le strade della città, si presenta allo spettatore con una dignità inaspettata. Nonostante la sua condizione di emarginazione, il suo portamento e il suo sguardo esprimono una presenza che esige attenzione e rispetto. I suoi occhi sembrano persi nell'osservare coloro che incrociano il suo cammino, ma è possibile che questa espressione non sia semplicemente di contemplazione passiva. Piuttosto, essa potrebbe rimandare ad una profonda riflessione interiore e un desiderio di porre interrogativi. Le domande che Cinciarda potrebbe voler esprimere suonerebbero certamente scomode per una società che tende a dimenticare gli emarginati. Il suo sguardo fisso e penetrante potrebbe essere interpretato come una richiesta di rispetto e attenzione per coloro che sono considerati diversi o inferiori. In questo modo, l'opera invita l'osservatore a guardarsi dentro e a riconsiderare il trattamento degli emarginati e la nostra responsabilità nei loro confronti. Pietro Annigoni, profondamente influenzato dalle tecniche del Rinascimento, adottò uno stile realistico e meticoloso nel ritrarre Cinciarda. L'opera si distingue per l'uso eccellente della luce del colore, che valorizza le ombre e le espressioni del volto del soggetto. Ritraendo Cinciarda con una dignità palpabile, Annigoni riesce a rivelare la profonda umanità del personaggio, riuscendo ad andare oltre le apparenze superficiali, scoprendo e rappresentando la vera essenza dell'individuo. L'opera è conservata a Firenze al Museo Villa Bardini.